Cambia volto un tratto del porto di Palermo. L'autorità portuale ha infatti affidato i lavori per la demolizione di sette immobili che ostacolano la vista del mare ad esclusione delle palazzine che ospitano la Capitaneria di Porto e l'Agenzia delle Dogane in corrispondenza del barco Samuzzo. Gli immobili sono totalmente privi di valore storico e architettonico e sono stati costruiti nell'ultimo quarantennio senza seguire alcuna specifica tipologia costruttiva, si legge nel bando, e con destinazione d'uso diversa da quella impropria alla quale sono oggi adibiti. Alla giudicarsi la gara è stata la Patriarca Group SRL di Comiso. I lavori dovranno concludersi in 120 giorni dalla data di consegna con la pavimentazione dell'aria. Con il nuovo appalto saranno demoliti l'ex sala pompe, il magazzino frigo, il locale ormeggiatori, gli uffici GNV, il deposito bagagli, l'ex bar del porto e il basamento del capannone atlantica per una superficie complessiva stimata di 2.673 metri quadrati. Le demolizioni rientrano nel più ampio progetto di recupero del waterfront che si baserà sui risultati del concorso internazionale di idee bandito nel 2018 dall'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale. Per potenziare il porto di Palermo è aggiudicato al raggruppamento guidato dalla società Valle 3.0 di Roma. Il bando prevedeva la progettazione di due nuovi terminal e di un edificio che funzioni da interfaccia tra la città e il porto.